Amici di Euromusica, per me è un immenso piacere ospitare quest'oggi un artista che non ha bisogno di presentazioni, oltre a essere una grande emozione, ho indiviso con lei la terra d'origine, infatti è una chiamata, una tirata da Pugliese a Pugliese, anzi da Barese a Barese praticamente, quindi per me è un onore doppio avere qui con noi quest'oggi Serena Brantale. Ciao Serena, benvenuta. Ciao, grazie mille, ciao. Hai pubblicato ultimamente una cover di Vieni a ballare in Puglia di A Barese, da dove è nata l'idea di realizzare una cover di questo brano e anzi di reinterpretarlo a modo tuo? Diciamo che appena arriva questo periodo, che è l'estate, io tendo a pubblicare sempre qualcosa che possa essere appetibile per chi vuole divertirsi, ballare, stare in spiaggia, perché io mi rivedo in questa gente, sono la prima che fa una vita abbastanza mondana, si diverte, vado a ballare, mi piace da morire ballare, no? E quindi ho pensato, ok, facciamo una cover, però voglio che sia una cover legata sempre alle terre e che sia legata anche a qualcuno che mi piace, che stimo tanto. E quindi ho pensato subito a Caparezza, ma non è stata un'idea dell'ultimo minuto, è da maggio che pensavo a questo brano qua. Forse l'avrò risentito in radio e mi ricordo perché ho pensato subito a lui, però mi si è riaperto proprio il capitolo Caparezza, ma poi viene a ballare in Puglia, che non è il Caparezza di oggi, è il primo Caparezza. E la prima cosa che ho voluto fare è registrare le parti di Albano che mi facevano sorridere troppo, quelle frasi che cantava, i delfini vanno a ballare all'orizzonte, i treni vanno un po' fuori dal, un po' da pazzo, no? Con le frasi che dice. E quindi ho detto ok, proviamo a fare un brano di Caparezza che ha un link con la Puglia, che è questo brano qua, però lo voglio vestire un po' strizzando l'occhio ad un DJ che io adoro, americano, che si chiama Cake Tranada. E da lì con Manuel Finotti siamo entrati in studio e abbiamo cercato di avvicinare, viene a ballare in Puglia, al nostro gusto. Il 2022 per te è stato un anno pieno, hai pubblicato un album preceduto tra l'altro da un singolo e possiamo dire che le collaborazioni in questo ultimo lavoro sono tantissime. Si parla di Rochelle, Emon, Madelita Viario, Fabrizio Bosso e c'è un filone, un'ispirazione per questo tuo ultimo lavoro oppure ogni brano è diverso? Fabrizio è un amico da sempre, diciamo esatto, il comune denominatore può essere il fatto che siano tutti amici, persone che stimo e non persone che ho cercato tramite management, ma sono stati i miei contatti personali. Quindi sono stata io a chiamare Gianluca Gammon, Margherita e questa è una cosa che mi piace sottolineare perché si pensa sempre che l'album si faccia con ospiti, che il management chiama perché devono dare lustro, devono aiutare. Sicuramente mi aiutano un sacco questi ospiti e mi danno lustro, ma sono prima di tutto amici. Quindi il comune denominatore è l'amicizia che lega a me con Margherita, a Fabrizio, a Ricerbona, Gianluca e Davide Sciorti e a Rochelle. Il titolo è, scusa la pronuncia, ma diciamo non essendo il mio dialetto non riesco a pronunciarlo bene. Perché questo titolo? Isso Accusi vuol dire, io sono così, che è un po' mezzo barese, un po' napoletano, non è completamente barese. La pronuncia? Perché se fosse barese sarebbe Isso Accusi, invece è Isso Accusi, no? Quindi che non sai com'essere ne napoletane, barese e mi piace lasciare anche un po' con questo dubbio. Vuol dire che sono così, che mi piace cantare viene a ballare in Puglia. Mi piace però anche lo standard jazz, mi piace Pino e mi piace cantare l'afro. Ecco, un po' come dire, sono questa, al di fuori da tutti i generi musicali, perché si tende sempre per ordinare i pensieri all'altro, si tende a dire faccio la cantante jazz per essere più semplice nella descrizione di te stessa. Invece volevo chiamare, ho chiamato questo album Isso Accusi perché sono jazz ma sono anche tante altre cose, quindi mi piaceva raccontarmi in questa maniera. Il grande pubblico ha avuto modo di conoscerti qualche anno fa, nel ormai lontano 2015, grazie a una partecipazione al Festival di Sanremo. Cosa ti rimane di quell'esperienza e cosa ti porti ancora oggi? L'emozione, ancora, se ci penso, penso a come ero piccola e a come ho saputo comunque affrontare quel grande palcoscenico che mi piacerebbe riaffrontare, perché no. Mi porto nel cuore un'emozione fortissima, perché da lì ho preso coscienza che volessi fare la cantante seriamente. E quindi da lì, dal 2015, è partito tutto, anche se cantavo già da prima, però è stato l'inizio di qualcosa di importante. Tra l'altro l'occasione era accompagnata, come per la direzione dell'Oestra, da Arolina Bubbi, o altra artista pugliese, leccese e noi di Euromusi abbiamo avuto modo di conoscere lo scorso anno al MEI. E poi, tra l'altro, recentemente ho lavorato nel brano Italianità, per dirne una. Sì, sì, Italianità è un brano veramente simpatico, dove lei ha pensato di unire un po' di amici nei diversi dialetti, e quindi io cantavo il barese e lei leccese con il Sun Sound System, Davide Shorty nel siciliano, e c'è un rapper, ora mi sfugge il nome, napoletano. Bellissimo, quel brano è stupendo. Ed è un altro segno del tuo forte, le ame on questa terra, è la Puglia. Sono legata alla Puglia da quando sto a Roma, da quando mi sono allontanata da casa, che ho capito quanto fosse cool la mia terra. E quindi è da sei anni che ho preso il cuore e ho deciso di scrivere molto di più in dialetto. Ci vuole un po' di tempo per apprezzare le cose. Cos'è che ti fa apprezzare particolarmente il dialetto barese? È particolarmente musicale oppure, non so, c'è qualcosa che porti particolarmente nel cuore? È particolarmente musicale. È un po' vicino al napoletano, che è il dialetto per eccellenza italiano conosciuto nel mondo. Il barese non è molto lontano, il siciliano è un'altra cosa, il leccese è un'altra cosa, il romano è un'altra cosa. Il barese si avvicina molto, il calabrese è un'altra cosa. Mi sembra molto vicino al napoletano. Forse perché io amo tantissimo tutto ciò che è musica napoletana, tutto ciò che è folklore napoletano. Quindi poi mi sono legata al mio dialetto e l'ho riscoperto perché ho visto che era molto simile. Va bene, io ti ringrazio per essere stata qui con noi e invito tutti quanti i nostri lettori ad ascoltare questa bellissima cover di Viene a Ballare in Puglia e ad andare a recuperare l'ultimo album, Isa Ussi. Esatto, Isa Ussi. Bene, perfetto e davvero ci sono tantissimi brani molto particolari, molto interessanti e è un piacere da ascoltare. Quindi ti ringrazio ancora per essere stata qui con noi e ti auguro di risentirti e rivederti presto con qualche altro lavoro sempre interessante come ci hai insegnato. Grazie, ci stiamo lavorando, ogni giorno si deve scrivere musica per esercizio e ci sono altri brani in uscita.